Un confronto tra istituzioni, politiche, operatori della comunicazione e l'autorità garante per discutere della violenza contro le donne sul triste fenomeno che vede la Sardegna al secondo posto in Italia per il numero dei femminicidi. Un tema drammatico e di straordinaria attualità, ha dichiarato il Presidente dell'Assemblea Sarda Michele Paes nell'intervento che ha aperto i lavori del convegno in videoconferenza e che ha registrato una preoccupante recrudescenza proprio nel corso del lockdown per l'emergenza Covid. Il Consiglio regionale ha affermato il Presidente e respinge con forza e determinazione questo fenomeno strutturale che coinvolge l'intera società e rappresenta non solo una violazione fisica o della psiche ma è prima di tutto una violenza alla dignità delle persone e che come tale mina alla base la nostra civile convivenza. Nel corso dell'iniziativa sono stati presentati anche i risultati del monitoraggio condotto dall'osservatorio di Pavia Global Media Monitoring Project sulle discriminazioni di genere nel settore delle comunicazioni. Dal monitoraggio promosso dal Corecom emergono dati in chiaro scuro. Da un lato si registra una maggiore presenza delle donne nell'informazione interpellate come specialiste esperte, si profila così una sfida agli stereotipi. Dall'altro lato però si registra una mancanza di adeguati spazi di riflessione sulle cause che determinano questi stereotipi. E' necessario quindi accelerare quel processo che porta ad una condizione paritaria di genere anche grazie a un maggiore contributo dei media.